Dopo la discussione sul DDL Sicurezza è chiaro che nessuno in maggioranza vuole modificare la legge sulla cittadinanza, se non in peggio. L'unica via per farlo concretamente è quella del referendum che abbiamo promosso insieme a tante associazioni e organizzazioni del serso settore. Si può firmare fino al 30 settembre sul sito www.referendumcittadinanza.it. Quindi chiediamo una mobilitazione unitaria a tutte le forze delle opposizioni, a tutti i partiti progressisti che credono che questa sia una priorità e un'urgenza.